Nicca! Eeeh! E' senza eserlo? E' chiamata! E' tanto, puoi dire che è firmata? E' che stiamo preparando il mio canetto? E' tanto uno o due andate il canetto è pronto senza questa gruista! E' che è chiamata, è stato un po' a casa! Ah? Un'ora tua, poi un po' troviato sul conto nostro e mandato anche a finire, ne ho fatto la domanda, per cui si prendeva in un'altra uniforme. Ah, cosa bella! Non era? Anche appare un principe e una principessa! Adesso è bella sull'uniforme delle carabinerie scelte, ma su costumino antico che non c'è, tanto non ti porta di arricchiamo, di orecchie, è tutto frissato, saunetta! Ma è tutto, sei da due, sei in iglesia, ecco? E' questo premio! E' questo premio? Che hai gusto sconcare le zubbe delle carabinerie, sì? Chi si comenta di sissa? Non c'è di antinarevo se vuoi fare il gas! Ah, mezzo il gas, sì! Ehi! Nicca! Ehi! 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 Ma non ti intende questo caso descende? Ehi! 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 Il maschera Ehi! Ehi! Perché 마 quando adesso visitano un po lesi? Puh! Ehi! Iori nel видео Poi su questo video Si ricordano le mie tutte le scelte Mi convivano una femminella porta una entrava e non mi vincita il brusco adesso ti prendi la mamma! Ma tanto, ti prendi un'entra e ti prendi la broca secata tanto, scurta! Prima di un ruolo puoi non entendere ogni aguita e litania di queste signore che dice che fai sienta con il suo beccato uno dice, non scurta le signore, io e io e io e queste cose mi vengono male io lascio entendere dico mai nanti ogni orta che fai sienta con il suo beccato mi nasce che sei o che sei o che sei o che sei o una broca e che sienta tanto! Ehi, tu brindando, vuoi te andava a entrare da cricare e ci sienta? E che non è che ancora nessuno da navi ti vuoi entrare sulla broca secata? Si, su, si arrasse cose che capitan di vita nostra Nara ma tu sei sicura che non sei o che sei o broca Ah, tocca tu parà! Tocca! La sede che non so presta più defende di 32 anni Io lascio partirei ma tu non ce ne vengono No, non lo vengono Non lo vengono Non, non lo vengono Questa vengono sono firmata E il suo beccato che si spavano sul alto Eeeh, tanti sticchi che vi impresse, torna a te se la, amica mia! Ehi, mamma! Ma se non pare davvero che stavi toccato accanto vuoi una cosa, accanto vuoi sapere è sempre firmandese e ti non vado a essere facendo altra cosa vera, una mortasella E noi scuite? E poi, tu non è sola? No, non è sola Come tu non è sola? E te sei imbattuto il suo sposo? No, non è il suo sposo E chi è? E' Michele, il suo amico che ti ha più Ah, Michele è questo, bravo pizzucco ha l'irgo brullano ogni volta che torna il castello, e ne sempre non si fai visita Eeeh, ehi, 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 andate di poter Pornicca, questi niente! E chi è da Pornicca pure? Che non ha raccontato i buoni amici? Va! Ma è possibile? I due non lo comprendano che questo verbante, il maliziale come in testa ha neanche il che ha dato la cosa Anche questa cosa! Ah, ma la che dove proprio sei fatta apposta a pensare male là? Come? Ma poi comprendi Poi te non chiedi schienicca firmati un momento dell'essere Poi? 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 Casi queste sende non poter fai cura cosa Poi te non casi! E? Non sempre Come ti piace adesso? Ehi! Più adesso che tra l'uomo pensate mancare a Salestra fai finire da fai cura cosa Ma orta sei o due nara stu e dotu Com'è un tegnato di un dito antico? E te dito? Devo scampire da nè o no? E da cosa? Accordai E a tessi non poti tessi E a 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 tessi Ti amico io E a tessi Mmmmm E a tessi Con I' Flessi e Tessi E a tessi E a tessi E a tessi E a tessi sott'este e a parte Cosa la tessia E ha Te ti metti che mi trovi No! E a tessi e dovevi farei qualcosa ancora spiegare, calanti, un po' so come un cammolente carabinieri che ha stricato il sposo, non riescono a tenere tempo di spiegare come deve essere Marco Olimpio, mica! Vessi immediato e non la Corina! Oh, ma dove accende? Vessi immediato e non la Corina! Ma prima, ma non deve essere prima, via prima, come scopo da un po' Cato! Certo, classico! E questo altro tuo? Voi che sei tutt'esperato, per ogni cazzo solamente dove è sponerlo? Che ero da ragione con mamma? V'tiげai, tu vantai strupo! Non scopo non farlo ma fottessa di noi! V'tiげai, tu vantai strupo, poi ci andiamo sposo Voi che mi piannacca può essere che adesso stai rotto con il canetto sul tesso dell'arri, in mezzo della spedana e su qui non c'è stato bilissato, non c'è più di entrare in un'altra cosa che di bilissare ma io non c'è scostato eh, eh, eh poi c'è stato così dove non c'è bilissato a me su un gannetto, si spola, su un pozzino, il capriolo, che non si vede e lei non può spiare che là ti dò, coca in mano, può usare un frastino, può usare un scafugno di gannetto ma no, anche loro, ancora con un martello, che li scurano, che li risposta lì, ma in modo che non c'è spola sta fatando su, ora stai salutando tocca ai cagliari, questi stai andando in un minuto a quello venga troppo, venga mica, vai va, vai non poter andare a passare no, vai, vai ciao, mica, ciao, mio papà va, vai, vai vai, vai, mancare andasse a si spioca i tulleri, con un putaculo, schiena e stadi ciao, mica, ciao, gioco e zero, che sento? e gioco, che? mamma, se ti tratta male te pretende che ti passano i carroni tu e morami il brigunzia, ora ti senti stata assesa e dopo va tu giusto, e t'ha fatto? fia solo descendo io non mi muro, sei sempre d'accordo quando si tratta di Ossimone contravini oh, tocca, lasciami andare che mi stai fendendo perdere tempo, se mi chiedo a rastra eh, tu è, se non stas attenta? vai da qua e sancata tanto io che il babudu ti assorbello scussiccio so che la sa dispelecare vede, vede pure sti niente, come? tocca, vuoi mai la chiesa e chi ha da essere, come? no oh, San Rettore, un marciallo, sei come risca buongiorno eh eh bravo, bravo buongiorno buongiorno, ma tranquilli, non siamo venuti ad arrestare il figlio eh, no, certo giusto, maresciallo beh, o su maresciallo se vede ne va a arrestare il figlio non vede ne va a sapere, non vede ne va a sapere se vede ne va a sapere, non vede ne va a sapere se vede ne va a sapere, non vede ne va a sapere giusto, era venuto con un altro carabinieri scelto eh giustamente, signora noi agiamo sempre in coordinamento ah eh ti scusi signor Anzia, su maresciallo ma hai detto questo coordinamento eh signor Cosimo, vuol dire che noi quando svolgiamo operazione di polizia ci scaglioniamo sul territorio ma signor Cosimo, cosa ha capito? scaglionarsi non scaglionare ma 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 mi va lì alla ma non importa se ho so signore, siete gente a parlare di San Vettore, se ci devi grazie, grazie grazie, grazie grazie, grazie grazie, grazie ovunque signor Cosimo, ho il piacere di comunicarle che la domanda del suo futuro genero per indossare l'alta uniforme alla cerimonia delle sue nozze è stata accettata dalle competenti autorità militari regionali non si fa piacere maresciallo sono molto contenta che il suo interesse a me lo ringrazio a me da me cara signora tengo a precisare che la domanda non ha terminato il suo interburocratico scusi maresciallo, te cos'è? non so più eh, giustamente voi illetterati non sapete cos'è un interburocratico eh, giustamente non lo so neppure io te lo puoi spiegare, su maresciallo eh, se è più piccolo, non lo so io maresciallo, da che è andata questa domanda che hai fatto finito? anche te ne passate un altro fritto comprendi già giusto maresciallo a domanda rispondo il signor sì la domanda del suo nominato carabiniere è stata inoltrata per via gerarchica al superiore comando dell'arma di Roma ah, signor maresciallo si è seguito da via gerarchica ma signor Cosimo lei il militare non l'ha fatto sei nostro signor maresciallo e allora la via gerarchica la deve conoscere ah, scusa che si tocca la polna del rotto al rapporto del suo romano su uno spirito del suo comandante a domanda il subordinato ha risposto esattamente riposo si può sedere dando misetto sì 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 e madame la risposta non è sicura perché? che a me mi vuoi via gerarchica non mi ha mai risposto nemmo altri tempi signor Cosimo allora c'era la guerra adesso è diventato tutto più facile e sbrigativo e poi c'è l'interessamento del maresciallo che a livelli alti è una vera potenza non esageri il referendum ho solo qualche buona conoscenza al punto giusto da ringraziare il maresciallo da usare i vitali vincere i sposori non mancherò a proposito i sposori e a capa torna colare che non batte i sposori ho detto di tutte le cose allora è che sarà torna che gli aspettavano sì ma ok come non si può fare su una segretta sì se si tratta di roba buona questa cosa che vuoi fare a manzano 6 a 1 e non vuoi essere messa e via tanto e tanto andrà bene fino alla prossima se resta manzano e 6 a 1 certo 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 e tanto se mi deve poter regalare vino in un viaschetto là con tutto il gioco si deve regalare al serretore con i sanzani merdi sui frugatori con i sanzani che sono bufatissimi eh Dio Cosimo quelle che contano sono le intenzioni e tanto se il bello ormai ha le intenzioni non ci sarebbe anche per me un fiaschetto di questo buon vino che sembra nettare e poi il tenono tanto a buffare quando viene e a pagare buono capisca signor Cosimo un fiasco di vino buono può servire ad aggiungere certe ruote e quindi è finita già che il bello ormai ha le intenzioni non ci sarebbe non ci sarebbe un conto sicuro si deve regalare al serretore mi domanda con chi? non ci sarebbe parla due cose mamma bella tocca tocca la si vienes pronto io andiamo così la sopra ombiles mi chiedi mi chiedi andas e vazion la figlia mia che se sente che se vogliono scorrere e sposare l'anna ando anas e vi piccare la cosa da muffosso lo spuglio Fate tranquilla signora.